Salve, sono la panda della seconda generazione. E io sono la nuova panda 45 super, la pandissima. E a me come mi trovi? Ti trovo in splendida forma. È vero, mi sono rifatto un po' l'interno più rifinito, le sospensioni sono più morbide e ho imparato a essere più silenziosa e a consumare addirittura di meno. Anch'io, sa io le tue stesse migliorie, però mi sono permessa una linea ricca, un conforto, degli interni deliziosi, ho dotazioni di gran classe. E poi con la quinta marcia ho ridotto i consumi fino al 14%. Siamo le panda ok! Fiat Panda, l'auto in libertà. E Fiat Panda Super, l'auto in libertà, con qualcosa in più.